Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Ho pochissimo tempo a disposizione, quindi spero di riuscirci e di farvi il tutorial, per esattezza il secondo tutorial, in collaborazione con Panda All Selected. Vi ricordo che c'è il coupon di 10% su tutti i vostri ordini, su tutti i vostri articoli che acquistate sul sito Panda All Selected ed è valido fino all'anno prossimo, fino all'11.06.2023. Non mi delungo troppo, come dicevo non ho tanto tempo, quindi ho fatto varie prove, non ho un paio pronto per farvi vedere, però non ho tempo di fare la coppia di questi orecchini. Ho fatto varie prove, come vedete, questi sono i perni, quelli lunghi, come vedete, ecco qui, questo si inserisce nell'orecchio. Però vi volevo anche dire un'altra cosa, siccome che ho fatto questa trottolina, che infatti si chiameranno così, trottoline, non so se stanno bene due. Cioè, io li ho regalati già ad un'amica un paio simili, diciamo, avevo fatto un'altra sfera che avevo fatto io e mi diceva che stanno meglio solo uno, indossando solo uno e magari nell'altro indossando qualcosa di più piccolo, più semplice. E quindi ho fatto anch'io così, perciò non faremo un paio di orecchini, ma li faremo solo un orecchino, mono orecchino, se possiamo chiamarlo così. Perché a me piace lasciarlo così lungo e uno, secondo me, starebbe molto meglio. Allora, queste trottoline sono fatti con tre tipi di cipollotti, da questi qua piccoli, da Panda All Selected, che sono 2x1, 3x4 mm e all'interno un 6x8. Ovviamente, se non avete, come vedete, io ho fatto due prove, ho fatto questo solo con cipollottini e invece qui ho fatto con le rocaille. Dove oggi faremo con le rocaille ci serviranno per forza i cipollottini. Invece qui, dove ho fatto solo con i cipollottini, senza le rocaille sopra, ci sta dentro anche una perla da 8, perciò decidete voi. Se volete sostituire l'inizio e la fine del lavoro con le rocaille 11.0, inserite un cipollotto 8x6 mm. Se invece utilizzate solo i cipollottini 2x1 mm, potete inserire all'interno una perla da 8 mm. A me piace più il risultato questo qui con le rocaille, perché copre un po' di più, vedete qui, all'inizio e alla fine. Invece qui, con i cipollottini, rimane più scoperto. Quindi, a dire la verità, mi piace di più questa qui con le rocaille. E oggi faremo la versione con le rocaille. Allora, questi tre, ok. Ci serviranno una base, diciamo, per questo orecchino così lungo, un perno, che sono questi qui. Oggi ho scelto il color oro rosa, questo qui. Ci sono anche color oro e argento. E il codice è questo qui. E poi ci serviranno dei cipollottini 2x1 mm. E il codice è questo. Come vedete, io per oggi ho scelto questo colore, che davvero non rende, però è molto molto più bello dal vivo. E un po' sul rosa. Poi cipollotti 3x4 e un cipollotto 8x6. Inoltre ci servirà anche un chiodino per inserire all'interno. Io ho già messo da parte due cipollottini, perché uno sarà sopra e uno sotto. E a quel filo basta così. Allora, sposto un pochino e così iniziamo il lavoro. Io ho già inserito 8 rocaille 11.0 sul mio filo. Ho chiuso a cerchio e ho fatto un paio di nodini. Adesso, uscendo... Vediamo, anzi no, ho fatto il nodino, quindi mi sposto nell'altra rocaille. Quindi, uscendo da questa rocaille, prendiamo una rocaille 11. Le rocaille sono da Miyuki, non so se l'ho detto. E ci inseriamo nelle successive due. Così. Adesso prendiamo di nuovo una rocaille. e ci inseriamo nelle successive due. Di nuovo una rocaille. E ci inseriamo nelle successive due. Ok. E adesso l'ultima rocaille e ci inseriamo in queste due. Ovviamente, non può mai andare liscio. Deve succedere sempre qualcosa. Ecco qua, ce l'ho fatta. Quindi, adesso, uscendo da questa rocaille di punta, prendiamo due cipollottini 2x1, un cipollottino 3x4 e due cipollottini 2x1. E ci inseriamo nella stessa rocaille, ma dal lato opposto. Ecco qua, in questo modo. Adesso, attraversiamo queste due rocaille e ci portiamo ad uscire dalla rocaille di punta successiva. Se ci riesco, ovviamente. Ecco qua. E quindi, qui, ripetiamo il passaggio che abbiamo fatto qui. Perciò, ve lo ripeto ancora una volta, e poi continuate da sole. Prendiamo due cipollottini 2x1, un cipollottino 3x4, e altri due cipollottini 2x1. Eccoli qua. E ci inseriamo nella stessa rocaille, ma dal lato opposto. Ecco qua, in questo modo. Adesso, attraversiamo queste due rocaille e ci portiamo ad uscire da questa qui sulla punta e facciamo questi due passaggi anche per questi due angoli. Bene. Allora, adesso ci portiamo ad uscire da un cipollotto 3x4 mm e prendiamo un cipollottino 2x1, 1x3x4 e 1x2x1. e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Solo nel cipollotto 3x4. Ecco, in questo modo. E continuiamo così per tutto il giro. Bene. A questo punto, mi sto portando ad uscire da questo cipollotto. Adesso vi spiego. Come vedete, qui, si vede il filo uscire da questi cipollottini. Si vede questo archetto. Quindi, io esco sempre da questo. Giro il lavoro per comodità. Quindi, uscendo da questo cipollotto qui, prendo due cipollottini, una rocaille 11, due cipollottini e mi inserisco nello stesso cipollotto 3x4, ma dal lato opposto. Attraversiamo anche un cipollotto piccolo, uno grande, uno piccolo e ancora uno grande. Quindi, questo passaggio lo facciamo su un cipollotto grande sì e uno no. Non lo facciamo su tutti. Vedete, questo archetto? Ve lo giro così. Vedete, su questo cipollotto faccio l'archetto che così si completa questa parte qua. Vedete? Invece, su questo no. Poi, mi sposto nel successivo e anche qui faccio questo archetto di due cipollotti, rocaille e cipollotto. E continuiamo così per tutto il giro. Quindi, un cipollotto lo facciamo e uno no. Uno sì e uno no. Alla fine ci dobbiamo trovare con quattro archetti. Eccomi. Allora, mi sono portata ad uscire da questa rocaille 11.0 e adesso prendiamo due rocaille e ci inseriamo nella rocaille di punta successiva. Di nuovo, due rocaille. Non lo stoppo più perché e ci inseriamo nella rocaille successiva. Perché se vi dico la verità che questo video è fatto da 50.000 pezzi perché ogni volta che stoppo per un passaggio le mamme ovviamente si trovano adesso a chiacchierare sul gruppo e ogni volta si toglie la pausa del video. E quindi avrò 50.000 pezzi da unire per fare questo video. Non so se avrò il tempo e ci proverò. Quindi, adesso non lo stoppo più e continuiamo così. Finito questo giro con tutte le rocaille quindi tra una rocaille e l'altra 11.0 abbiamo inserito altre due rocaille. Adesso ho inserito il cipollotto all'interno giriamolo con il foro di sopra ecco, in questo modo e tiriamo bene il filo. Adesso dobbiamo andare in queste due rocaille se riesco a farvi vedere ecco qua come vedete adesso questa è la rocaille di punta che era qui e questa. Noi adesso le rocaille di punta dobbiamo saltarle quindi uscendo da queste due rocaille ci inseriamo nelle due rocaille successive e saltiamo la rocaille di punta e tiriamo sempre bene il filo. Di nuovo saltiamo questa rocaille di punta e ci inseriamo nelle due successive. Giriamo sempre il lavoro per comodità e tiriamo il filo quindi ci inseriamo nelle successive due e nelle successive due saltando sempre quelle di punta. ecco qua in modo da stringere bene questo foro qui ecco qua ci siamo ecco vedete in questo modo ed ecco la nostra trottolina pronta. Adesso che la guardo bene secondo me può essere molto carina anche come braciale come pandorina solo che il foro è stretto però secondo me ci sta in qualche modo si può fare. Io adesso faccio un paio di nodini che sono passata varie volte in queste rocaille quindi penso che basta perciò faccio un po' di nodini prima di tagliare il filo ecco qua e questo è il terzo nodino e ne facciamo un altro per sicurezza ecco qua bene adesso possiamo tagliarlo ed ecco qua adesso prendiamo il nostro chiodino con un solo cipollottino ci inseriamo nel foro del cipollotto che sta all'interno e anche qui tra le rocaille sopra inseriamo il nostro cipollotto che vi dicevo prima ed eccola qui secondo me è molto molto carina anche come ciondolo e come charm per borsa e tante altre varie cosine che possiamo creare con queste trottoline ok quindi ho tagliato questo pezzettino di chiodino e adesso lo giro per fare l'asolina ed ecco qua che è pronta la nostra trottolina adesso inseriamo l'orecchino la riapro un attimo giusto per inserire l'annellino dell'orecchino ed ecco qui la nostra trottolina pronta fatemi sapere se vi piace cosa ne pensate di questo progettino e niente con questo vi saluto vi mando un bacio al prossimo tutorial ciao ciao grazie a tutti